musica bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xuder e ragazzi è arrivato finalmente insieme ad un sacco di novità anche l'immagine del teaser numero 2 di fortnite ce l'hanno fatto sudare ma finalmente l'hanno rilasciato alle ore 18 di oggi lunedì martedì oggi è martedì 4 dicembre ragazzi e ce n'è davvero per tutti i gusti quella che vedete alle mie spalle è l'immagine del teaser di ieri la conoscete benissimo si vede la forma la sagoma del cavaliere del ghiaccio che vi è in su creato dalle nubi del cielo ma ragazzi avevamo tutti notato anche quella piccola skin la nella spalla sul lato destro dello schermo e ragazzi prima di farvi vedere il teaser di oggi hanno fatto rilasciare dato un bel like mi raccomando tutte le cose di rito un bel like iscrivetevi e attivate la campanella ma ragazzi queste sono immagine immagini ufficiali prese da un altro update che ha fatto uscire epic games per quello che riguarda save the world che si chiama il fort storm una roba del genere comunque la neve su fortnite è ovviamente confermata questi sono appunto estratti di paesaggi innevati appunto fatti apposta per lanciare il loro e i loro update di salva al mondo e ragazzi state pronti rullo di tamburi mi tengo mi tengo mi tengo e sgadaban eccolo qua ragazzi il teaser numero 2 finalmente arriva e non è nient'altro che un ingrandimento di quella skin che avevamo già visto ieri come vedete ragazzi non è assolutamente una skin con sembianze umane sembra un lupo qualcosa del genere e se andiamo ancora più da vicino a guardare ragazzi ed ingrandiamo la nostra immagine possiamo vedere come ci sia un'altra piccola skin là dietro che viene in poche parole travolta da questa skin che ancora non sappiamo facente parte del pass battaglia oppure no non chiedetemi che italiano vi ho detto ma vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato anche il secondo teaser ovviamente qua nei commenti ditemi secondo voi che cos'è questa skin che ruolo avrà nella nuova season noi ci vediamo presto in live ciao ciao